È da un po' di tempo che sto cercando di limitare al massimo il consumo energetico, reciclando e riutilizzando tutto quello che posso. Se ci pensiamo bene potremmo utilizzare questa filosofia anche per organizzare un matrimonio. Come? Se state pensando di organizzare un matrimonio eco-friendly, il nostro primo consiglio è quello di scegliere una celebrazione diurna o all'aria aperta. In questo modo possiamo abbassare il consumo di energia elettrica e le emissioni di diossido di carbonio. Inoltre cosa c'è di più romantico di un matrimonio a lume di candela o con le luci soffuse? Un'altra idea per celebrare delle nozze eco è quello di prediligere un unico spazio. Se organizziamo la cerimonia e il banchetto nella stessa location, gli invitati non avranno bisogno di spostarsi più volte con il loro veicolo. Anche gli sposi quindi possono scegliere un mezzo di trasporto green. Sempre più coppie infatti scelgono di arrivare al matrimonio in bicicletta. Anche per quanto riguarda decorazioni e allestimenti possiamo scegliere opzioni eco-friendly. Per esempio potete scegliere delle partecipazioni stampate con inchiostro biodegradabile o realizzate in carta reciclata oppure decorare la location con dei vasetti usati. Combinando l'uso di candele, fibre naturali e questo tipo di recipienti darete alla festa un tocco bohemian. Quindi abbiamo scelto location, allestimenti e trasporto. E il menù? Non ci siamo dimenticati! Per questo tipo di matrimonio potete scegliere alimenti biologici o un'opzione completamente naturale. Questi alimenti, oltre che ad essere amici dell'ambiente, sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. Che cosa chiedere di più? E come dimenticarci delle bomboniere? In questo caso vi suggeriamo di scegliere una bomboniera solidale, una piantina, dei semi da piantare o, perché no, una bomboniera gastronomica a chilometri zero. Hai preso nota di tutto? Se vuoi un matrimonio 100% eco-friendly e se ti è piaciuto questo video, clicca like, non ti dimenticare di iscriverti al nostro canale. Alla prossima!